Un benvenuto a tutti da parte del gruppo Zatti e Tutomotori Io sono Fabio Ardiani Oggi siamo presso la nostra sede del gruppo Zatti da dove vi presenteremo alcune delle nostre migliori vetture tra cui usato e chilometro zero Venite con me Partiamo con questa Toyota Yaris del 2014, 1.4 diesel da 90 CV L'auto presenta fari full LED, telecamera di parcheggio radio touch con connessione USB e dotata di fendinebbia climatizzatore manuale, vostra a soli 8.900 euro Continuiamo con questa Toyota Yaris Touring Sport, 1.8 da 136 CV del 2017 con 90.000 km L'auto presenta telecamera di parcheggio, schermo touch con connessione USB fendinebbia, fari full LED e cerchi in lega sarà vostra a soli 16.500 euro Vediamo ora questa occasione Chiario, 1.2 benzina cambio manuale del 2021 con soli 6.000 km L'auto si presenta con Apple CarPlay Android Auto schermo touch AUX USB e Bluetooth cerchi in lega fari full LED e fendinebbia sarà vostra a soli 14.500 euro Continuiamo con questa magnifica Renault Captur 1.5 diesel da 90 CV del 2015 con 63.000 km L'auto presenta fari full LED connessione USB cruise control sensori di parcheggio gomme invernali e cambio manuale vostra a soli 11.900 euro Naturalmente tutto quello che stiamo vedendo è una piccola parte dello stock del gruppo Zatti tutte le auto sono garantite e selezionate dal nostro miglior personale ad esempio questa Opel Mokka 1.4 benzina GPL del 2017 con 40.000 km è dotata di fari full LED anteriori e posteriori sensori di parcheggio connessione con Apple CarPlay e Android Auto cruise control con limitatori di velocità cambio manuale vostra a soli 17.900 euro Ora volevo chiudere con una grande novità di casa Auto Zatti siamo diventati concessionari ufficiali del marchio MG nelle province di Reggio Parma Mantova Modena e Piacenza inoltre abbiamo disponibili in long test drive tutte le versioni elettriche plug-in fino a due giorni Quindi non vi resta che venirci a trovare ovunque voi abitiati in Emilia le sedie Auto Zatti sono vicino a voi seguiteci sui social e visitate il nostro sito www.gruppozatti.com Un saluto da Fabio e tutto il Gruppo Zatti Grazie a tutti